La scuola ricomincia e deve già affrontare la prima grave emergenza. In classe tornano gli studenti, ma non è detto che in cattedra siano presenti tutti gli insegnanti. A due giorni dalla ripresa mancano infatti all'appello ben 600 docenti, di cui la metà 300 di sostegno. Mancano all'appello 600 insegnanti, appunto la situazione più drammatica riguarda il sostegno perché è una situazione di precarietà e di incertezza che va a colpire gli alunni più deboli. La situazione più drammatica riguarda gli alunni con disabilità. Quest'anno sono aumentati di numero, 982 contro i 950 del 2016. Eppure ad affiancarli non sempre ci saranno insegnanti specializzati. Non ci sono insegnanti specializzati e quindi questi 300 posti di sostegno verranno assegnati a insegnanti probabilmente dalle gradutore d'istituto. Gli insegnanti richiesti nelle scuole piacentine sono 3.129, ne mancano 300. Quelli di sostegno 590, ne mancano altri 300. Il personale ATA 946, i posti sono stati assegnati. Totale complessivo 4.665 dipendenti. Mancano gli insegnanti della scuola primaria, mancano insegnanti della scuola dell'infanzia, mancano insegnanti per quello che riguarda invece la secondaria di primo e secondo grado, soprattutto di alcune materie per cui per esempio i posti di matematica rischiano di diventare veramente posti scoperti senza avere la possibilità di nominare personale che abbia le competenze per questo insegnamento. Quest'anno si aggiunge anche l'incombenza burocratica della presentazione da parte di tutti gli operatori scolastici dell'autocertificazione inerente ai vaccini effettuati. Anche gli insegnanti devono presentare un'autocertificazione, però se non la presentano non succede nulla. Una procedura all'italiana? Gli insegnanti e tutto il personale della scuola, dirigenti scolastici, personale ATA, avranno l'obbligo di presentare un'autocertificazione, senza però che ci sia l'obbligo poi di dar seguito all'eventuale mancanza di vaccinazioni. Grazie a tutti.